Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Penso che ci sia bisogno di affrontarla senza l'ansia da campagna elettorale e mettere in campo un'azione che non può essere italiana ma deve essere europea. In tutto questo noi stiamo discutendo di 10.000 persone l'anno, perché questo è il numero delle persone che salgono sulle navi delle ONG dalle barche, di 10.000 persone l'anno. E' un problema, affrontiamolo, ma non pensiamo che possiamo mettere questo al centro dei temi sull'immigrazione, perché facciamo un errore clamoroso, facciamo un errore clamoroso di distrazione degli interessi del nostro paese. Non di distrazione, ma di distrazione degli interessi del nostro paese. Quindi io penso che da questo punto di vista sia giusto che le ONG regolino i loro rapporti, se vogliono venire in Italia, con le autorità italiane prima di tutto. Cioè devono agire nel coordinamento con le autorità italiane, perché è vero che c'è un abuso altrimenti di questi transiti nel nostro paese. Quindi ci deve essere una regolamentazione di rapporto con le autorità italiane e gli altri paesi devono fare la loro parte nella ricollocazione. Ripeto, provate a guardare quanti sono le persone che arrivano via mare di quei 227.000. Non sono 227.000, la maggior parte delle persone arriva via terra, non via mare. Non fanno... No, volevo chiedere a Klaus Davi, comunque adesso...